Iniziamo questa sfida in alta quota andando a prendere il primo ristoratore che definisce il suo chalet il più costoso delle Dolomiti. Boh, speriamo che almeno si mangi bene. Sono Alex Monteleone del Fienile Monte. Il mio ristorante è un piccolissimo chalet in mezzo alla pista di sci al Passo Sella nel Trentino. Avevo un piccolo fienile e avevo solo due o tre coniglie e una capretta. Allora abbiamo pensato sfruttiamolo e facciamo qualcosa di carino. Cucina un po' ladina e non ladina, c'è un po' di tirolese, un po' di mediterraneo, c'è un po' di tutto. Sono un po' rompiscatole. Sono molto severo sulla pulizia, sull'ordine e anche sul servizio. Vincerò perché come posto siamo unici nelle Dolomiti. Buongiorno. Buongiorno Alex. Pronto? Prontissimo. A bordo. Che genere di ristorante hai tu Alex? Io ho un ristorantino ad alta quota al Passo Sella a 2260 metri. Molto piccolo, però bello e chic. Bello e chic. Andiamo a incontrare il prossimo sfidante. Lui ha uno chalet un po' diverso dal tuo, diciamo molto più tradizionale, ma non per questo meno buono. Sei curioso? Molto curioso, sì. Anch'io, andiamola a prendere. Sono Massimo, sono il titolare di Malga Mille Grobbe. L'idea l'ho raccolta dai gestori precedenti, l'ho fatta crescere come se fosse il mio bambino. Adesso è diventato un piccolo resort qui in mezzo ai pascoli e ai boschi. Facciamo una cucina legata al territorio. Abbiamo i nostri piatti forti, i canedali, i strangolapreti, i sughi di selvaggina, di funghi d'estate, soprattutto qui è una zona magica per i funghi. Vincerò perché i miei clienti mi dicono, Massimo, senza di te, Mille Grobbe non c'è. Massimo! Ciao, Alessandro. Come va? Molto bene. Pronto, carico? Carichissimo. Allora, a bordo. Ciao. Ciao. Ci vedi Alex. Massimo. Ciao. Massimo, il tuo che chalet? Che genere di cucina fai? Appartengo al club di prodotto feria tipica trentina, dove applichiamo ancora un disciplinare molto rigido. Solo materie prime di provenienza trentina, sempre all'interno del menù. Bene, sarà interessante. Siete curiosi di conoscere anche il terzo ristoratore? Eh sì. Vi dico solo che se Massimo tu sei a chilometro zero, lui è a chilometro meno quattro. È un'integralista della cucina. Andiamo a conoscere il terzo ristoratore. Sono Paolo, sono il gestore del rifugio Maranza. Il rifugio è sulla collina sopra Trento, non ci sono piste da sciccia, il silenzio è un dono bellissimo. La mia cucina è semplice e non banale. Mi sono sensibilizzato al mangiare bene, al star bene. In cucina sono pazzo scatenato, rido e scherzo, però nello stesso momento sono molto esigente. Mi piace tanto il coro in fronte e non vedo l'ora che arrivano i miei avversari per essere criticato migliorandomi. Bravo! Finalmente ci conosciamo. Alessandro come stai? Benissimo. Sei pronto? Carichissimo. Andiamo. Andiamo. tutti cuochi o ristoratore? Ristoratore. Ristoratore, niente cuochi. Io sono un cuoco, invece ristoratore. Doppio lavoro. Doppio lavoro. Allora, ristoratore, andiamo a conoscere il quarto ristorante in sfida. È una lei e da 30 anni gestisce il suo ristorante super tradizionale. Io sono Carmela, assieme a mio marito Ivano. Siamo i proprietari di questo ristorante, della stua Dezac. Abbiamo preso in mano questa che era l'azienda di famiglia e un po' alla volta mi sono messa in cucina, quando avevo i bambini ancora piccolissimi. Noi facciamo una cucina tradizionale, da quando anche mio figlio è con noi. Abbiamo un po' allargato le nostre prospettive, abbiamo cercato di rendere dei piatti più moderni. Noi cerchiamo di coccolare i nostri clienti. Dopo tanti anni che vengono si crea un rapporto anche di amicizia. Vincerò perché lavoriamo con il cuore da tanti anni. La scalata al titolo di miglior ristorante ad alta quota è inizio. Massimo, Paolo e Alex insieme ad Alessandro si preparano a ispezionare il primo locale in gara, la stua Dezac di Carmen. Ristoratori, questo è il ristorante di Carmen. Saliamo, andiamo a vedere. Cosa vi comunica questo ristorante? Il locale giusto, nel posto giusto questo. Poi la neve gli fa un contorno ancora più da montagna. Non è un posto di passaggio, devi cercarlo. La struttura è esternamente vecchia. La mia prima impressione è stata non uno chalet, non una vecchia casa. Oh Carmen, buonasera. Eccoci qua. Alessandro. Ben arrivati. Accomodatevi. Ristoratori, allora, sapete le regole. Adesso, per prima cosa, facciamo l'ispezione. E osservare con occhio critico tutto quello che vediamo in questo posto. Siete pronti? Prontissimi. Cara Carmen, tu vai in cucina, dove io poi ti raggiungerò, mentre loro iniziano l'ispezione. D'accordo. Io gioco per vincere. Non ho paura del giudizio degli altri ristoratori. Certe cose come queste qua ormai non sono più belle da vedere. Ho notato il camino, che secondo me è sempre il fuoco da calore, è una buona accoglienza, un buon benvenuto. Non c'entra niente questa con noi, con la montagna, dal mio punto di vista, è un po' quasi chiccio. Beh, c'è il lago qua dietro, quindi magari la barchetta. Forse hai ragione. Ci manca un po' di qualcosa. Un po' di modernità. Modernità, un tocco di stile. Il primo impatto appena è entrato, un po' stanco come locale. Mi aspettavo un ambiente un po' più moderno. Ciao Carmen. Buonasera. Il tuo regno? Sì. È una cucina spaziosa. L'abbiamo ristrutturata 15 anni fa. Facciamo un giro? Certo. Ok. Posso? Prego. Qui c'è un po' di tutto. Sì, sì. C'è la linea dei primi, dei formaggi, degli antipasti. Mi dando conto tu c'è poco spazio qua, come frigorifero. L'angolino della stufa vuole sarebbe veramente carino. A parte per la raccolta. Il museo. La raccolta è un po' destemporanea. C'è un po' roba che non c'entra con l'ambiente dal mio punto di vista. Qui ci sono gli armadietti di servizio. Che precisione! Forse magari un tocco di innovazione per quanto riguarda l'illuminazione ci stava. La mise en place, vogliamo parlarne un po'. Ci sono un po' le scatoline un po' sporche, macchiate, il tovagliame. Non sembra curato. La tavola preparata, un po' più di cura. Non ci stava male. Si vede la pulizia dalla base dei tavoli. Di pulizia non possiamo dire niente. Non anzi. Carmen, in questa cucina mi viene voglia di mangiare. Sì. Quindi ci vediamo dopo. Senz'altro. L'ordine e la pulizia della location hanno messo tutti d'accordo. Ma è la mancanza di modernità che non ha convinto pienamente i ristoratori. Carmen riuscirà a stupirli con i suoi piatti? Ristoratori, ci siamo, siamo nel primo ristorante. Da Carmen, l'unica doll. Signore, buonasera. Buonasera. Posso disolvervi? Darvi i bel arrivati. Sono con piacere di avervi ospiti questa sera. Posso permettermi di proporre un aperitivo? Va bene che direi di sì. Prego. Per un attimo allora. Ci affidiamo a voi. Ci affidiamo. Penso possa essere di vostro credimento. Spero che accettiate questa proposta. E quindi mi accingo ad aprile. Grazie. Va bene il rispetto del cliente, però un po' di più di scioltezza. Non frasi fatte. Oh, ecco il boss. Io sono venuta per consigliarvi. Abbiamo questi due primi piatti che secondo me sono davvero da provare, che sono la mia pasta trafilata e i canedri di ricotta con lo spezzatino di vitello. Vogliamo fare due prime due secondi? Così assaggiamo un po'... È una bella idea. I secondi cosa ci consigli? Secondo vi consiglio il coniglio e poi io vi consiglio la peverada nostra. È davvero da provare perché è un piatto proprio tipicamente trentino. Perfetto, va benissimo. Ecco, adesso però dovete assaggiare il nostro entrè di benvenuto. Perfetto. Buon appetito. Grazie. Grazie Carmen. Peverada, mi sono dimenticato di chiedere cosa intende. Perché però... Peverada io la intendo una salsa di albinamento. Che accompagna bolliti. Mi sembrano pronti a trovare il pelo nell'uovo. Non so se conoscete questo, è la proposta dell'entrata dello chef che vi dà un piatto tipico trentino, lo smaccafam. È letteralmente abbattifame. Allora, fatto con farina integrale e farina zero zero con della salsiccia mescolata. Solo così no, a me non piace. Se fosse con la salume, sì. Un po' di lardo per ammorbidirmi. Troppo unto. Pietro, mi fai la tosella di entrè per cortesia? Sì, sì. Per i quattro giudici? Sì. È come una cornacchia che sta qua dietro di me tutto il tempo. Un po' di meno. Un po' di meno. Una buona polenta. Sicuramente fatta con un paiole a legna perché si sente il fumo. La trota è buona. La pasta è fresca? Come? Forse è un po' troppo cotta. Adesso assaggio. Un po' asciutti sono. Quello è un po' avanti nella cottura. Un po' avanti, sì. Come va, signori? Carmen! Il mio piatto, se devo parlare solo del mio... Sì, mi piace un po' scarico di sapore. Non sto parlando di un cattivo piatto, sto parlando di un piatto che non mi ha emozionato. E per lei? La trota è buonissima, la pasta un po' forse è troppo cotta. No, è il tipo di pasta così. Perché è fatta col pane, quindi non è la pasta tradizionale. La polenta. Cos'è che hai chiesto Paolo, scusami? Chiedevo, secondo me ha questa nota di fumo? Ha una nota di fumo perché è una farina molto forte. Comunque le donne hanno una marcia in più, perché riescono sempre a cavarsela in ogni situazione. Dolci, signori. Abbiamo le nostre torte caserecce, oppure abbiamo dei dolci al cucchiaio. Facciamo un dolce per uno? Sì. Scegli te Carmen per noi? Scelgo io. Allora, una ciambella e lo strutto del cucchiaio. Grazie. Questa è la? Ah, questa è la musti. Di ricotta. E una cortesia, il conto per favore. Vogliamo assaggiare? Io non sono tanto amante della ricotta, ma è buono. Deve essere un pelo più dolce. Io devo contraddire Alex. I dolci, secondo me, sono già troppo dolci. Un bravo pasticcere deve creare i dolci non dolci. Mi piace perché appunto non è così dolce, perché c'è già il miele che ha il suo effetto. Il dolce ho gradito particolarmente la musti ricotta, gli altri dolci buoni, decisamente. Ristoratori, è arrivato il contro. Secondo voi, quanto abbiamo speso? Sui 90 euro. Intorno ai 100. 115. Ok, abbiamo speso... 135 euro. Tanto? Poco, giusto? Un po' troppo per l'insieme delle cose. Per il mio punto di vista è troppo economico, togliendo i vini. Va bene, ristoratori, è arrivato il momento di dare il vostro voto. Vado a prendere i taccuini. Vi ricordo che andiamo a votare da 0 a 5 per la location, il servizio, il menu e il conto. Alla location ho dato 3 perché è una struttura un po' datata, è un po' stanca, diciamo. Al menu ho dato 3 perché è rustico, deciso, ma senza innovazione, senza creatività. Il conto ho dato 4 perché dal mio punto di vista non mi sembra eccessivo, anzi. Il servizio ho dato 2 perché il cameriere era troppo ossequioso, troppo addosso alle persone. Servizio ossessivo, il cameriere fuori dal tempo. È nato col ristorante. Carmen invece è una donna forte e dolce allo stesso tempo e si vede che ama il suo lavoro. I dolci? Buoni. La stuode Zacca ha totalizzato 35 punti. Il conto è stato ritenuto più che adeguato, ma il servizio troppo cerimonioso ha messo a disagio i ristoratori. Ma la classifica è solo parziale. Manca ancora il voto di Alessandro. La sfida ad alta quota prosegue. Alessandro e i nostri ristoratori raggiungono il valico dolomitico del Passosella dove li aspetta Alex, il proprietario del rifugio Fienile Monte. Allora, ristoratori, eccoci qua. Siamo di fronte al rifugio di Alex. Il Fienile Monte. Però, 2260 metri. Si sentono? Molto si sentono. Mi piace o non mi piace? Non c'è da dire niente. C'è solo da aprire gli occhi e guardare. e restare affascinati, incantati. Benvenuti, cari colleghi. Allora, oggi è il tuo giorno. Voi sapete qual è il nostro confido in questo momento. L'ispezione. Alex va in cucina. Va bene. Pronti? Siamo prontissimi. Andiamo. Diciamo che è una location unica. Un arredamento unico, fatto proprio su misura e sul posto, per il posto. No, io questo non sono d'accordo. Queste sedie, per esempio, sono troppo moderne. Questo rivestimento a quadri è troppo moderno. Però per il posto io sarei stata su una cosa più classica. Eccezionale. Molto elegante il posto. Alex ha avuto un gusto a classe. Ciao Alex. Ciao Ale. Allora? Tutto bene. Quante persone lavorano qua dentro? Lo chef. Sì? Aiuto a cucina. E la va a piatto. Però, piccola, mi sembra completa. Anche questa sala a me piace. È un po' scura. La sala sotto è troppo scura, troppo tetra. Mi piace molto il design delle sedie, del tavolo, la disposizione. Sono riusciti, in questo piccolo, a sfruttare ogni spazio. La mise en place semplice, pulita, ma molto elegante. Ah, qui c'è tutto il magazzino. Vabbè, questo è tutto il secco. Abbiamo poco magazzino. Certo, meglio. Tutto quello che usiamo al giorno e basta. Ah, qui ci sono tutte le paste. Sì, i gelati che fa lo chef, molto buono. La sensazione è che è piccola, è una bomboniera, però è super curata. Abbastanza, sì. È organizzata, devo dire che è pulitissima. Sono un capo molto, molto esigente. Anche un po' rompiscattole. Voglio che sia tutto perfetto. Sono fatto così. Allora, Alex, sono curiosissimo di assaggiare la tua cucina. Ci vediamo dopo a cena. Ok. Buona serata. Ciao. L'ispezione ha soddisfatto pienamente sia Alessandro che gli altri ristoratori, nonostante qualche obiezione sull'arredo troppo moderno. Alex ora dovrà giocarsi il tutto per tutto con i suoi piatti. Ristoratori, eccoci. Siamo nella maita o nello chalet di Alex. Che genere di luogo è? Secondo me è un po' freddo. Io ho una concessione diversa dell'ambiente di montagna. E qual è? Più caloroso, col fuoco. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie. Ciao, Alex. Ciao, allora. Bene, bene. Vi serviamo un piccolo cocktail di benvenuto. Un fiore di sambucco con del prosecco. E poi vi invito fuori, abbiamo un piccolo buffet. Qui abbiamo il nostro spec tirolese, come ben conoscete. Ostriche che non c'entra niente con la montagna, però le mettiamo. È giusto. Perché piacciono. Formaggi locali con delle salse. Mi buco. Buon appetito. Del buon spec. Massimo, vedo con piacere che tu parti di ostrica. Trovare l'ostrica a 2400 metri non è da tutti i giorni, per cui gustiamocela. Questo connubio tra il mare e la montagna non dispiace affatto. Il target a cui si rivolge questo locale, da quanto vedo, è un target elevato. Secondo me bisogna sempre mantenere la propria identità. In questo modo l'identità viene cancellata. Se posso proporvi che è molto buona cappuccino di polenta di storo? Con crema di gorgonzola e tartufa e scorzone. Poi risotto ai porcini code di gambero e spec tirolese rosolato. Un agnello con la salsa lagrain, purè e broccoli al burro. E una piccola fiorentina locale. Io sono un uomo d'agnello, lazzaggio volentieri. Io sono un amante della carne, per cui la fiorentina... Volentieri. Il risotto per me. Il risotto. Ti ho detto con la polenta. La polenta di docca. Ma avevo pensato a quello. Perfetto. I formaggi vi piacciono? Ma. Ho sentito ma. Non ti piacciono i formaggi? Quello che ho preso io è un po' asciutto. Non ha molto sapore. Ha perso un po' dalla sua fragranza. Esatto, esatto. Avrei una selezione più particolare. Non formaggi commerciali, ma da piccoli artigiani, piccoli produttori. Se lo vinciamo qua, vi licenzio. La carne ve la metto qui, va bene? La carne è una carne di qualità, scrollata in modo adeguato. Il riso è buono. I gamberi, io li trovo fuori luogo. Non amo le mescolanze tra funghi e pesce e tutte queste cose. La zuppa è molto buona. Devo dire, ripetendomi sempre, forse sono monotono. Immaginatela, una zuppa con un buon pozzone di moena. Rispetto all'opinione di tutti, ma il cibo non è solo tradizione, è anche innovazione. Quindi bisogna essere aperti nell'assaggio a tutte quante le cucine. Anche a quelle che magari non sono strettamente territoriali. Mi porto un pre-desert. Basilico e limone, sì, però c'è qualche un po' la bocca. Che cosa ci porti per dolce? Porto 3-4 piattini in tavola, faccio dello yogurt di malga con sapori della natura. C'è la panna cotta con della frutta e dopo c'è una variazione un po' a sorpresa con dei gelatini fatti in casa. Mi porti anche il compo, per favore, Alex. Grazie. Volentieri. Prego. Grazie. È di malga o non è di malga? È uno yogurt, sicuramente alto attesino. Ma non è uno yogurt. Cioè quindi è commerciale, di barattolo? Sì. Sei sicuro di questa cosa? Sono sicurissimo. Eccolo qua. Ci aveva ragione il nostro purista. Va bene. Ci avevi ragione. Che ti devo dire? Eh, lo so. Perché che lo do? A me, io sono l'uomo del conto. Carmen, secondo te, quanto abbiamo speso? 160. Massimo? 220 euro. 250. Abbiamo speso... 288 euro e 70 centesimi. Per me è coerente con tutto l'insieme delle cose che abbiamo visto oggi. Per me è troppo. Regalato. L'aperitivo trovato nel conto a 22 euro, quello mi ha un po' spiazzato. Ristoratori, è il momento di dare un voto. Carmen. Io. Massimiliano. Paolo a te. Grazie. Vado a votare anch'io. Ok, ci ho dato 4 perché siamo in un paradiso e qui possiamo offrire il meglio a chi lo sa apprezzare. Al servizio ho dato 3 perché è stato buono. Al menù ho dato 4 perché era buono, materia prima buona. Mi aspettavo un po' più territorio secondo la mia filosofia. Al conto ho dato 1 perché mi ha sembrato esoso. Una location bellissima, unica nel suo genere. Una cucina semplice, curata e di qualità. Ristoratori avversari troppo fissati con la territorialità. Strategia? Con 38 punti il Fienile Monte supera il ristorante di Carmen. I voti più alti sono andati al servizio e alla location, ma il conto troppo alto e i prodotti non sempre del territorio hanno lasciato qualche dubbio.